Nell'officine di G.Marcus per aprire una semplice bottiglia di vino si usa un avvitatore, una vite, una chiave da 19, e tanta passione. Ma va! Mo' di mezzo allo spessore. Dammi una raggiata, un dato. Dammi una raggiata. No, no, dammela di chiara. 17. No, 17. Ma la 17 è proprio la 19. Ma via quella aperta, quella aperta. Vai, vai, metti, metti. No, no, no. Eh, mo' s'ho smarrato. Porco dio, s'ho smarrato. Dai, YouTube. Caccia! Aspetta! Ma perché tu non lo metti? Si, l'inestrattore sta facendo! Esatto! C'è una chiave di mesi più crosta. Eh, ma senti la potenza del Milwaukee. Metti a uno! Aspetta, aspetta! Metti a una. Ma che facciamo? Roppi la bottiglia! Porco dio! Ma con la pinza, chiacca lui? Con la gagna, dai! Con la maciulla! Beh, ma ora lo vedo, però buono! Ma non è, è la plastica! Dai, dai, tira, tira! Che cazzo è da fuori? Che c'è la plastica? La plastica? No, begliamo il vino con la plastica! Su, 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 su! E' un suggero ogni settimana! C'è una macchina lì apposta! Ottimo direi! Sono un po' il vino di... Eccolo! Eccolo! Vedi? Eh, 5 minuti!